Per l'anno scolari 2011-2012, Amiria Dajac ha perseguita le azioni a prodotti a promozioni e di asparti radialingua gurti. E così che torna una volta, parecchi a te li sono stati proposti nei diversi centri ALSH Dajac e Osorudion. Rituriamo tanto il centro di Zandioa, un nuovo stabilimento di Candia che è appartizzato porti gustano, ma di noi centri di Zampiero, di Oloreto, di Baleone, di Pietra Alba e di a Residenz d'Isile. Il quadrillo che ha permesso ai cittadini di familiarizzarsi con un suzio di ritmo. Quest'anno l'imparire diventa più tecnica, con le apparizioni di schemi e di parole nuove che sono specifiche a questa maniera tradizionale di badà. Il quadrillo che ha permesso ai cittadini di imparare la lingua di maniera più precisa. Quando sono noi, con le parole e le parole nuove, hanno avuto progressi a città di un vocabulario ma di non le parole orali. Il quadrillo che ha permesso ai cittadini di Baleone, 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 di Baleone. Il quadrillo che ha permesso ai cittadini di Baleone, di Baleone, di Baleone, di Baleone, di Baleone, di Baleone, di Baleone. Hanno così partecipato a fabbricazioni di ganistrilli a varina gastanina, ciò che l'ha permesso di imparare i nomi degli ingredienti come l'olio, l'olio o il zucchero. L'arte i plastici hanno legato una piazza maggiore a espressione artistica di ogni scuola. Hanno lavorato quest'anno, hanno dato il tema dell'urto e hanno realizzato pareti di pintura e assai coloriti. Un uomo di piante e di l'insetio non è più niente di un segreto pareti. E sento l'adio! Il teatro, in due espressioni corporali misse in davanti, domanda una concentrazione maio ai nostri giovani romerianti. Con una pezza humoristica a nanti a Napoleone, abbiamo scopato l'erotalente della torre ai nostri cittadini. Si sa, chi è il dottore di l'imperatore? È il più buono di Francia! Ah, e io vi ringrazio. Posso un medico di Napoleone? Sono io! Mi piaceremo? A vola faceci nasce un immaginario poetico, ascoltando una storia fantastica che parla d'orco e di paesani. In città di un universo strano e suonorità che ci incontano, il sito è risortito con il famoso segreto di un brocio. Per la nuova stagione ritroviamo l'insieme di noci intervinanti e tanti gare. Per la nuova stagione ritroviamo l'insieme di noci intervinanti per l'attività quadrilo. Qu, U, I significa qui e non qui. Qui c'è in francese. Non chantez in francese, chantez in corso. Pao Gant è l'aranzo bruskin che è venuto torna a spartaco e città di un amore della musica. La cucina è sempre assicurata da rosa Conte Bardot comparata ai citi di Sosoli tradizionali. L'arte plastica è il dominio di Mario Sepulcro che spartano gli universi colori e colori. Allora, qual è che vuoi fare i Pampa Gioli? Dui, mica di più, due. Voi due. Allora, mica da partutto di noi. Tu vuoi lagare la piazza per altri fiori. Il teatro è assicurato torna una volta da François Bacland che ci va a scoprire noi italiani. E' un po' di più. 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 E' un piano piano piano. E' un po' di più, in Corsica, c'è Ranù? Açai, açai. E' un po' di più. Un po' di più. Una notte in Dubudio. Si avvicina un mago. Aciugulele. Gostando di noi, abbiamo potuto rimarcare l'impegno maggior di i cittadini in tutte le attività proposte. Abbiamo avuto progressi in vocabulario e in pronuncia, ma di noi in una capiciera di la lingua corza. Gostando di noi, abbiamo potuto rimarcare l'impegno, in un'impegno di l'ampegno, in un'impegno di l'ampegno. In un'impegno di l'ampegno, in un'impegno di l'ampegno, in un'impegno di l'ampegno. Volemo dire con confidenza che la trasmissione di nostra lingua e di nostro patrimonio è Nanda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.